Il tema è la possibilità di lasciare o meno Lautaro Martinez in panchina, ossia di far riposare un giocatore che lotterebbe per vincere il pallone d'oro. Lunedì con ogni probabilità Vinicius vincerà il suo primo pallone d'oro, lo ha festeggiato in anticipo con una tripletta al Borussia Dortmund sensazionale e tra i top 5 e comunque sicuramente top 10 ci sarà Lautaro Martinez grazie a una ottima stagione in Serie A e a una Coppa America vinta da capocannoniere. Se Lautaro volesse fare meglio il prossimo anno è stato chiesto anche Simone Inzaghi, beh sicuramente ne ha le possibilità. Beh se io prendo le ultime sei partite di Champions League a gironi, le prime tre di quest'anno e le ultime tre dello scorso anno, Lautaro Martinez non ne ha giocata nessuna da titolare e quindi è un discorso che involge anche Simone Inzaghi e in generale il calcio italiano che per qualche motivo fa giochetti o comunque fa turnover, certo Young Boys Inter e Inter Juve sono partite diverse, City Inter e Inter Milan non erano così diverse e comunque Lautaro è andato sempre in panchina, cosa che all'estero non fanno e quindi Mbappé le gioca tutte le prime di Champions League. Haaland non si salta uno Slovan Bratislava, uno Spartapraga neanche a spararlo, a sparargli, scusate, e così come Vinicius, così come Kane, Lewandowski e tutti quelli che ci deliziano da dieci anni in Champions League. Perché la Champions League all'estero viene prima di ogni cosa, perché anche la partita contro la Dinamo Zagabri, la Stella Rossa è comunque un rito anche in, come dire, quasi al servizio e in onore al pubblico che, voglio dire, a volte paga anche un biglietto per non parlare poi anche di diritti televisivi. I grandi campioni della Champions lo giocano tutta, spesso anche 90 minuti. Lautaro Martinez, parlo di lui perché è il primo giocatore di Serie A nella classifica del progetto lunedì, non ha mai giocato titolare le ultime sei partite, non tutte contro Materassi, perché c'era la Sociedad, c'era il Benfica, c'era il City. E quindi non capisco come posso fare a migliorare se non gioca la competizione in cui tutta Europa, tutto il mondo, guarda quelli che poi arriveranno City perché è infortunato, però entra dalla panchina, gioca a mezz'ora, non brillantissimo, e ancora quel periodo non era brillantissimo, però comunque City-Inter, giocherà a giurare il derby, giocherà a giurare il derby. Quindi quella, la vetrina principale di tutti i grandi fenomeni è la Champions League. Se Lautaro non gioca che 25 minuti alla volta, è difficile che secondo me possa fare meglio. Ma questo lo dico anche nel suo interesse, evidentemente. Allora, allora, il tuo ragionamento... Ok, questo è quello che ha avuto sempre pastore. Facciamo un ulteriore chiarimento. Non siamo noi a definire Lautaro pallone d'oro, ma è stato Messi, è stato suo allenatore, quindi un giocatore da pallone d'oro. E per vincere il pallone d'oro bisogna giocare titolari. Arriverà nei top 5 del pallone d'oro, ma non ci è lontano in questo momento. Allora, il tuo ragionamento non fa una grinza, è evidente. La Champions League è la vetrina più importante tra tutte quelle che esistono nel calcio mondiale. Però perché gli altri giocatori si possono permettere di giocare tutte le partite, in particolare quelle della Champions? Perché giocano in squadre che se lo possono permettere. Perché questi giocatori giocano in squadre che puntano alla Champions come prima cosa, come primissimo obiettivo. Perché tanto sanno che comunque sia, l'altro obiettivo possono raggiungerlo ugualmente. Non hanno bisogno di fare dei calcoli. L'Inter, purtroppo, secondo me neanche troppo purtroppo, per quello che è successo negli ultimi anni, non ha ancora la possibilità di stabilire che la Champions League sia il suo obiettivo primario. Perché sarebbe un atto di arroganza esagerato, secondo me, in questo momento. Cioè tu devi continuare a mettere davanti il campionato cercando di fare il massimo possibile anche in Champions.